...mesurarsi con il potente di Taipei. Da altre parti, cominciate il match di Sbaraposo e cominciate il match sulla materassina C. E passando poco più di 40 secondi, 0-0 con il confronto fa. Dopo, avremo con Ivo e occorre anche che scontille. Ecco il confronto fra il nostro Abrame, che è ancora aperto. È passato un minuto e meno che è arrivato adesso con il primo ritiamo. E passare la tipi di Taipei, ma dopo avrà 30 secondi della potere. E ora, vediamo in cominciato il secondo. E ora, vediamo in cominciato. E ora, vediamo in cominciato. È passato alle spalle di Dio. 6-0 per me. Sta cercando la spiegata sulla danza siciliana. la catatrice di Dio. Intanto nulla di parte tra la parte. È sempre... No, è passata adesso in contatto a dire la Germania su un conegro. C'era fatta... A ritirarsi forse sull'8-0 la Dio. E perché si mette ancora in difesa. E adesso è il cammino di perduto. E qui però ci sono altri due punti. E dovevi essere ci chiamano la nostra seconda capitale. La Passluccia di Dio. La nostra scompa è assets проКА. La prossima scemana 후 E poi si mette ancora. E nell'altra materassina, nella materassina 5-4 finalmente c'è il passaggio dietro, alla fine del primo tempo regolamentare per il nostro altro comienzo di supporto in vantaggio, 5-2-1, bravo! Grazie per la visione! Grazie! 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 Il secondo, la canzone all'attacco, il file, una di fatto che non è da stoppare l'iniziativa di Artalexco. E c'è un altro punto per avanti, 3-1, di 55 se vuoi diventare. E' un altro punto per avanti, 3-1, di 55 se vuoi diventare. E' un altro punto per avanti, 3-1, di 55 se vuoi diventare. E' un altro punto per avanti, 3-1, di 50 se vuoi diventare. E' un altro punto per avanti, 3-1. E' un altro punto per avanti, 3-1. E' un altro punto per avanti, 3-1. E' un altro punto per avanti, 3-1, di 50 se vuoi diventare. E' un altro punto per avanti.